Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Siamo all'articolo 6, relatore, 6.3. Presidente, sono tutti contrari i pareri agli emendamenti all'articolo 6. Grazie, onorevole Pini. 6.3, Battelli contrario. 6.2, Battelli contrario. 6.1, Pesco Battelli contrario. 6.30, Gianluca Pini, Guido Gipossi, favorevole. Così come il 6.31 e il 6.4, favorevole. Perfetto, grazie, Governo. Pareri conforme al relatore di maggioranza, Presidente. Perfetto, siamo al 6.3, Battelli contrario alla Commissione di Governo, contrario al relatore di minoranza, contrario alla Commissione di bilancio, votazione aperta. Questo non pregiudica gli equilibri, però lo aspettiamo. la sua coscienza è importante. Carloni. Altri? La votazione è chiusa. La Camera respinge. Siamo al 6.2, Battelli contrario alla Commissione di Governo, contrario al relatore di minoranza, contrario alla Commissione di bilancio, votazione aperta. Salta Martini. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 6.1, Pesco, Battelli, contrario alla Commissione di governo, contrario al relatore di minoranza, contrario alla bilancio, votazione aperta. Grazie. 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 Donati ha votato. Altri? La votazione è chiusa. La Camera respinge. Siamo al 6.30. Contrario alla Commissione di Governo, favorevole ai relatori di minoranza, pare il contrario alla Commissione di bilancio. Votazione aperta. Ci siamo? Bragantini. Questa volta non Paola Bragantini. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo al 6.31. Gianluca Pini. Contrario alla Commissione di Governo, Commissione di bilancio, favorevole ai relatori di minoranza. Votazione aperta. Peluffo e Donati. Donati ha votato. Peluffo? Anche. Altri? La votazione è chiusa. La Camera respinge. Siamo al 6.4. Gianluca Pini. Contrario alla Commissione di governo, onorevole Pini. Lo ritira. Perfetto. Siamo all'articolo 6. Dichiaro aperta la votazione. Lomonte. Altri? Lomonte non è riuscito. Greco. Pili. Chi mienti ha votato? La votazione è chiusa. La Camera approva. Siamo all'articolo 7. Lo poniamo in votazione. Votazione aperta. Votazione aperta.